di non far vedere tutte le cartucce subito intanto trave Asia D'Amato eccola ecco Asia terzo esercizio di giornata brava era leggermente fuori assi ha fatto un ottimo recupero rondata salto teso smezzato anche per lei valore vai parti subito brava clic salto teso smizzato brava un piccolo sbilanciamento però Anjambe cambio e Anjambe sul posto con mezzo giro sicuramente Asia sta subendo un attimino un po' di stanchezza due sbilanciamenti così importanti non aiutano un salto costale invece questo eseguito piuttosto bene ribaltata senza mani Anjambe cambio mezzo giro un giro in passé parte a terra parte laterale per avvicinarci al bordo alla punta alla punta della trave per eseguire poi l'uscita doppio carpio bravissima bravissima allora nell'insieme non è un brutto esercizio due sbilanciamenti grossi quindi quando ha alzato la che si è un po' di stanza non è un po' di stanza